Musica 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 . Si sono molto indietro, abbiamo raggiunto la malattima, abbiamo risposto si sono anche qui. mi ha detto che gli amici, non vengono, ovo bene, ovo un paese? Mi ha fatto molto attraverso questo. Quando stavamo ho fatto un po' di giallo, a fare un po' di giallo, che sono iniziato a fare una nuova, che ci sono fanno iniziare, mi ha fatto un po' di rinca, si è semplice, E' un po' di più, un po' di più. Hanno costruito si è chiaro. Tutti mi fanno rendita tiene borja,难ppi nelquino, vanno. Si salgo con quello che sono rosso, Ho visto anche per me schia fasciate la bomba che durasse da le one per le one del lào. Fницу ed è stato metallico in generale su tavolo, non d пров оп jeszcze med a la vostra vernale, io ho detto che scoglie proprio altri Noi solo, Prunpanno miuro wie 0.7 e poi è rit Mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede. Se� i bisogni, ho fatto il rispettatore, non sono in casa. Ma che c'era quella quale, e come una macchina, mi ha avuto quello che mi vedi? E come mi ha detto questa mia, gli hanno detto che non si so, perché tutti i bisogni di tutta. E poi ha detto che vedi la classe, un leader colpso. La classe della classe è una scatola, ora deve prendere la classe, perché non si so. Non si so, una scatola, nel calcio, oppure escierto. E lui dice che vieni la classe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.